Soglieri i miei diversi! Nori ragazzi ho avuto un nuovo video effettivamente Al mondo vi sono stessa D'arri, sono cattolici i miei IPhone Oggi sono cattolici i miei IPhone Anche persone sono bambini Si chiedesse delle miei IPhone Quando avuto un mio IPhone ketteva spettare io sono tante Io sono tante im лишeni IPhone ma venire Non è che ho provato. il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Il problema è che il problema è che a fissuto il telefono quindi aumenta. Anch'io che era vredo ma Stimina ha detto di mangiare il tempo. Quindi ambiente è inietro perché ho sai da un poccio care che sia. Quindi Speriamo il iPhone, ci sono vedo con il 30s per farlo. Sono molto caldano che la uri e devo fare il telefono. Sì, comemo io, non si non c'è più, andiamo a rone in quanto ha fatto un tempo, e poi va rilogato a fare un telefono. Poi continuiamo con la mia cosa in quanto è stato fatto. Qu'è altro che non lo so, la mia scoperta, la mia scoperta, è stata una cosa, e la mia scoperta è stata un'altra cosa. E' un'altra cosa. O fa fa? O fa? O fa? Si! O fa? Domotica come fare le iphone Non si piace, ok? Ok Si piace? Però non si vuoi? Come va? Non si vuoi? Il nostro video è gratuito e il nostro canale è gratuito. e poi ci sono un box-in, e poi ci sono un box-in e ci sono i Android con l'iPhone e ci sono iPhone e ci sono iStabilizatori che significa osmo e ci sono i Android con l'iPhone e ci sono i Android con l'iPhone Perciò il mio telefono è un iPhone è un iPhone 64 giga è un pc è un pc One è una iPhone e iStabilizatori è un pc Perciò le farete Ancora iStabilizatori che ci sono iStabilizatori che non ci sono iStabilizatori 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 Ancora mi c'è un pc che mi sono iStabilizatori . . . . . . . . . quindi sono i telefoni sono i miei sono i telefoni di iphone 10 e il blavo quindi non è più adesso sono i telefoni sono i telefoni e adesso sono i telefoni adesso sono i telefoni designato da appell in california che in california ha scelto iphone andrea è francese buon giorno ciao sono i telefoni le hanno fatto anche che queste stagge 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 quindi намerano i dei delle diverse Andrei che ci sono i telefoni sono i telefoni questi sono i telefoni i questi sono i telefoni Slusalice normalno Znaczy original slucialice taro iPhone Soka koristinavli Hem, puniač Znaczy jahva sa dobinena Andrejko iPhone ketkineno nevo Eakena, te taro iPhone Tedika prvo izgliecari Sa sve dikena tabilo telefoni iPhone, shužo Mangi svegini pa kava po iše taro Pro Sa sopro hari grubo mange Isilietrin kamere I adalese Znaczy jahva i Stiminaa momentalno telefonea So se telefonea mange polosno te stiminaa O aparatu na šti stiminaa bud paroim Na nema stalako Ketko je ako iPhone znači konevo Psi ni hello Adalese normalno sa isto mislinao Nanesete dike vud Englješ kačuvav Germanija Agar svako iPhone izgledini Samo različno i akava U izgled Hem anglal Adalese netaru iPhone znači Akava i iPhone 11 Eakena, djeja Ko DJI Soli lume Adalese 8 A so videa su ka stiminaa vlea telefonea Na nete mrdini slika Znači Ajde ti li kao susilia da va Eke znači Soli lumeo stabilizatori DJI Adalese Djeje DJI Ili sarva kjeri pe nađanava Osmo mobile 3 kombovi ki ni pe znači Akava li laman ge mozat pokno Znači ka stiminava telefonea nešto To stabilno imate mrdini Spoti i akalea Katjeravle se Aki so dok sari izgledini kutija Lesi Znači akava sa izgledina gjeri kutija Ako va klasično sa Hemoja Znači šelu 3d evri ako štini Koj mangelat ovde se vida kvalitetno Te namrdi ni stika so telefoni Ako je snimini Preporučina akava Hemoja ništo ka na Trebala mange Čurik te pravava akava Neka probina ba stiate pravile Ako šai Ako mi se nade ka našti Aki znači pravim čurika je hale hte Takže... Prave vari Oči pravdilo akava Alllava Osmo DJ Why Sli next Oči pravare vidim Tabaphavala Ake Pravena Yardike Dobina akava O šukar pa ku imam Neče ko Dobina Akava Znači doni S przyšine se Osmo DJI Adava Hem vpravene akavih Kava lo vere a quelle che sia la compagnia si fosse la mia companiera che si siano drones all'inizio non ho stabilizzato ma via quelle che non sia l'acqua e anche la companiera non si fa la strada che non è davvero che come va la mia città la mia città non so che città non so che città perchè il telefono non è venuto come va? si sono la città di GIA e la città la mia 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 città stabilizzations la mia città la mia città la mia città ma non si stoppe la mia città non so ma città la mia città ma non so ma anche apparando ipida lora delendiente la prima il primo va stickare trovo il cao ok qui arrive a me là la stabilizatore sta alla il cao il cao si mi non è ora 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 qui qui il cao la ora ok non sarà nulla e adesso poi ho unbocsing di nuovo iphone solo loom quindi avete una casa e un'uomo e adesso iphone 11 si vede che c'è DJI 8 mobile 3 combo quindi o tre solo loom e adesso ho avuto con le zawiere Ciao Ciao